oh come fa qualcuno no oh questo ce l'ho già per scambiare non scambia un cazzo eh andiamo facci un po' vedere le armi perché qua di qua non è che ci fai prima 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 io che sono che sono ferita sì ma eh di qua di là che cazzo oh con calma eh non credo passami attraverso ma perché adesso ce ne stavamo tranquilli progettavamo di abbandonare la città ma serviva un capo espiatorio ci provocavano ci sono riusciti stiamo cercando di difenderci no aprite da te la porta che non c'ho voglia sinceramente c'è già quella là che mi c'è la cannetta e niente devo aprirla io va bene ehi spuncia spuncia vadi contessa vadi e come vedi che vada eh no possiamo passare in silenzio anche se non è il vostro stile vediamo come va dai andiamo arriviamo a quella porta quale? ah quella? ah vabbè quella aspetta io prendo questa la giustizia non aspetta soldato eh chi se ne frega ecco fatto a posto a posto a posto a posto si ma è qua cazzo aspetta eh aspetta 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 ovviamente non sente nulla ma non è che ti devo a quell'atto vado piano questi grazie a dio sei qui hai visto? cos'è stato? cos'è stato? tranquillo vai ritenta ritenta sarei più fortunato dicono no? io prova a passare di qua io prendo questo fai il giro e si stama l'altro chi se ne frega a posto dai bene silenzio a quanto pare ci sei fare davvero te sei tempo oh c'è qualcosa sicura aspetta 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 vai giù vai giù vai giù vai giù vai giù ma che cazzo si fa? sto stronzo via aspetta che c'è un altro stronzo qua aspetta aspetta vincio male eh? pezzo di merda andiamo vai dai dai vieni vieni su a posto minchia cazzo di qua bene qua non c'è nulla figurati come stai? vado avanti per inerzia ma ce la farò ma è poco più avanti si ma attenzione il coprifuoco è attivo a posto tutto il minchia grazie cosa dobbiamo contrabandare? grazie ti faccio vedere attenzione il coprifuoco è attivo chiunque venga sospetto all'esterno senza autorizzazione sarà attestato e perseguito qua non c'è nulla faccia strada vai vai vuoi una mano? faccio io? hai visto? manco la maniglia si apri ecco ma stai sparati? no che caccia ah la cosa ecco ah no? no no a posto eh no ce la potete fare la consegnate tornate qui e le armi sono vostre ah il dubbio di quella di robert a proposito dubbi su all'accampamento mmm grazie non facciamo un cazzo finchè non le vedo tu vieni con me così ferifichi le armi e io mi faccio ricucire ma lei non passa in quella zona della città voglio che Joel la tenga d'occhio con il cazzo non lo so ebbè come li conosci? tenevo molto a suo fratello Tony se ero in difficoltà potevo contare su di lui è stato prima o dopo che ha lasciato il tuo gruppo di militari ha lasciato anche te era un uomo buono ascolta portala alla gallina è solo merce, Joel no basta basta andrà tutto bene e speriamo vai con lui dai dai e tu stammi vicino dai andiamo andiamo orga ragazzi ragazzi grazie 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 grazie